Allora vorrei portare il mio contributo a questa giornata condividendo con voi quella che la mia tesi di laurea presentata circa 20 giorni fa presso l'università degli studi di Bari dal titolo farmaco di laboratorio versus farmaco naturale pianta di canapa e su effetti nella sclerosi multipla. Con questa tesi ho voluto porre l'attenzione sugli effetti dei farmaci convenzionali nel trattamento della sclerosi multipla contrapponendoli ai farmaci naturali a base di infiorescenze di canapa. Prima però di passare nell'oggetto della mia tesi vorrei partire dalla risposta che il dottor Greenspoon, un neuropsichiatra professore a merito dell'Harvard Medical School considerato uno dei più grandi esperti al mondo nel settore della canapa terapeutica, dice una risposta che il dottor Greenspoon dà a questa domanda. Quali condizioni dovrebbe soddisfare una medicina ideale? In primo luogo una medicina del genere non deve essere tossica, deve essere utile in una moltiplicità di situazioni e infine non dovrebbe essere troppo costosa. La canapa soddisfa tutti questi requisiti. Circa 2000 americani muoiono ogni anno per l'uso di aspirina. In 25 anni di ricerche non ho mai incontrato un singolo decesso imputabile alla canapa. C'è una sola conclusione possibile. Abbiamo ignorato una medicina importante. Prima citazione nota dell'uso terapeutico della canapa la ritroviamo in Cina. in un testo tradizionale della medicina cinese. Lo ritroviamo in India, nella medicina iurvedica, a Roma, con Galeno, Plinio, Dioscoride. La ritroviamo nella storia da sempre. All'inizio del ventesimo secolo l'introduzione dei farmaci di sintesi comporta l'abbandono dei farmaci naturali e quindi della canapa. fino agli anni 50 in cui si ha un nuovo impulso alla ricerca che si è intensificato soprattutto negli ultimi anni. La sclerosi multipla abbiamo già detto che è una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale, è una patologia infiammatoria demilienizzante, quindi si ha un danno a carico della mielina. E si suppone ci sia appunto un'alterazione del sistema immunitario che in situazioni normali dovrebbe proteggere l'organismo da agenti estranei, quindi virus e batteri. Nel caso della sclerosi multipla va ad attaccare invece gli elementi del sistema nervoso centrale che scambiandoli per agenti esterni e per questo viene anche definita patologia autoimmune. Le cause sono diverse e non ben definite, perciò si parla appunto di un'origine multifattoriale. Diversi fattori concorrono appunto la sclerosi multipla, l'ambiente e l'etnia, l'esposizione ad agenti infettivi, la predisposizione genetica e non per ultimo il fattore alimentazione di cui abbiamo prima parlato. I sintomi dipendono dalle aree del sistema nervoso colpite. Ogni persona ha un quadro sintomatologico diverso. I sistemi più colpiti includono la visione, l'equilibrio, la sensibilità, la parola, il controllo della viscica, la sessualità, le funzioni cognitive. Per arrivare a una diagnosi di sclerosi multipla trascorre diverso tempo, caratterizzato da diverse procedure, anamnesi, esame neurologico, testi e vocazione dei potenziali visivi auditori, risonanza magnetica nucleare, puntura lombare. È impossibile predire con certezza il decorso in quanto proprio a causa della sua origine multifattoriale. Trattamenti convenzionali della sclerosi multipla si dividono in tre categorie, terapie dell'attacco a base di corticosteroidi, terapie a lungo termine immunomodulanti e immunosoppressori e terapie sintomatologiche, nelle quali rientrano sia i trattamenti riabilitativi che farmacologici. Il limite di questi trattamenti però è rappresentato in molti casi dalla relativa efficacia e soprattutto dalla grossa incidenza di effetti collaterali. Cosa sono i cannabinoidi? Ne ha ben parlato il professor Grassi e quindi sono sostanze chimiche contenute nei fiori di canapa. Il fiore di canapa contiene circa 600 sostanze chimiche differenti, di cui circa 60 appartengono alla famiglia dei cannabinoidi. I più studiati su cui ci sono stati più approfondimenti sono il delta 9 tetraidrocannabinolo che ha mostrato attività, proprietà come mio rilassante, antiepilettico, analgesico, antibiotico e tanto altro. E il CBD, il cannabidiolo, che regola e potenzia gli effetti sedativi analgesici del tetraidrocannabinolo. I trattamenti a base di cannabinoidi consistono sostanzialmente nell'utilizzo dell'infiorescenza della pianta attraverso la vaporizzazione attraverso il cibo, data la sua natura liposolubile. In particolare l'assunzione tramite vaporizzatore ha il vantaggio della rapidità d'azione e di maggior biodisponibilità. Da un confronto sugli effetti dei farmaci convenzionali nel trattamento rispetto ai farmaci naturali emerge che i primi hanno come effetti collaterali ansia, disturbi gastrici, sottrazioni al corpo del potassio, depressione, peggioramento della spasticità, riduzione dei globuli rossi e tanto altro. Sono effetti di medio grave entità che persistono nel tempo e in molti casi hanno mostrato scarsa efficacia. Gli effetti invece indesiderati dei farmaci naturali a base di cannabinoidi dipendono dalla dose e dalla condizione psicofisica del paziente. Effetti acuti consistono soprattutto nell'alterazione dell'attività psichica, dell'attività motoria, iposalivazione e accelerazione della frequenza cardiaca. In nessun caso sono stati dimostrati effetti d'astinenza e sostanzialmente sono effetti di lieve entità che scompaiono dopo alcune ore e in molti casi hanno mostrato buona efficacia. Da un'analisi di alcuni studi scientifici sull'utilizzo dei cannabinoidi per alcuni sintomi della sclerosi multipla è emerso che per quanto riguarda la spasticità e la mobilità una valutazione oggettiva misurata attraverso la scala Ashworth e il Rivermide Mobility Index ha evidenziato nessun tipo di miglioramento. Si contrappone però la valutazione soggettiva ovvero il punto di vista dei pazienti che hanno riscontrato un miglioramento nella qualità del sonno, della spasticità e del dolore. Un follow up di questo studio ha inoltre rilevato un marcato miglioramento dai fisioterapisti con riduzione di spasticità e livello di disabilità che nello studio a breve termine non era stato rilevato. Per quanto riguarda il tremore esistono discrepanze tra gli studi soprattutto a seconda della sostanza utilizzata. In questo studio non ci sono stati miglioramenti evidenti probabilmente perché l'estratto utilizzato non conteneva i principi attivi preposti al trattamento del dolore soprattutto perché si trattava di capsule che non hanno mostrato la stessa efficacia dimostrata dall'inalazione che invece si è dimostrata fondamentale per un effetto antitremore. E infine la dose utilizzata attraverso la capsula può non aver raggiunto la soglia critica per allievere il dolore. Per quanto riguarda infine l'incontinenza ai pazienti è stato chiesto di compilare dei diari sul funzionamento urinario e da questi diari è emersa una significativa riduzione dell'incontinenza e infine attraverso il pad test è emersa una perdita di volume inferiore nei pazienti in trattamento. Un'ulteriore analisi recentissima a base effettuata da un team di ricercatori provenienti dal Canada e degli Stati Uniti ha fatto emergere che per il 67,8% dei pazienti l'uso della cannabis è sostitutivo rispetto ai farmaci. Le tre motivazioni principali per la sostituzione con la cannabis, meno ostinenza, meno effetti collaterali, una migliore gestione dei sintomi, suggeriscono che molti pazienti potrebbero già aver individuato la cannabis come un'efficace e potenzialmente più sicura alternativa al loro regime di farmaci prescritti. Andrea e Lucia sono due delle tante testimonianze della validità terapeutica dell'utilizzo di cannabis. Andrea e Lucia sono entrambi affetti da sclerosi multipla e sono pazienti pugliesi che dopo un iter fatto di farmaci convenzionali hanno cominciato ad utilizzare la canapa con ottimi benefici e soprattutto con nessun tipo di effetto collaterale. Andrea infatti afferma i muscoli sembrano sciogliersi, le mani si distendono, il prurito e i dolori si calmano, la sedia a rotelle non serve più. Andrea era in sedia a rotelle e dopo un periodo di trattamento con farmaci a base di cannabinoidi ha lasciato la sedia a rotelle come tanti altri. Lucia invece afferma Ho miglioramenti evidenti nell'andatura, nei tremori, nei dolori, negli spasmi muscolari, nella rigidità, nell'appetito, nell'umore ma soprattutto nella qualità della vita. E concludo con un'affermazione di qualche tempo fa del premio Nobel per la medicina Rita Levi-Montalcini. Sono favorevole alla cannabis terapeutica perché può mitigare la sofferenza ed è priva di effetti secondari. È vero che non abbiamo prove definitive ma se questa sostanza non provoca danno e non è risultata pericolosa, perché non approvarla subito? Grazie.